Benvenuti al consueto appuntamento con sette giorni di cronaca incidente mortale. Si è verificato questa settimana nei pressi del bivio di Sepino sulla statale 87 a perdere la vita un 71enne di Campobasso nell'impatto, nello scontro violento tra un furgone e un camioncino. Sentiamo. Uno scontro violento frontale poco dopo l'alba, intorno alle 6.40, i pezzi del camioncino e del Fiat Ducato sparsi lungo la statale 87 all'altezza del bivio di Sepino verso Sassinoro. I due mezzi sono finiti a decine di metri di distanza l'uno dall'altro, distrutti. Su uno di essi, il furgone bianco, viaggiava Alberto Pietrarca a 71 anni di Campobasso. Era diretto in Campania per lavoro, per delle consegne. Per lui non c'è stato nulla da fare, è rimasto incastrato nel furgone morto sul colpo. I due ragazzi sul camioncino di 27 anni, di battipaglia, feriti e portati al Cardarelli dall'ambulanza del 118 giunta sul posto, erano diretti a Campobasso per consegnare prodotti da forno surgelati. L'incidente su un tratto già teatro di altri mortali. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per capire cosa sia successo. Sembra, da una prima ricostruzione, che il camioncino abbia invaso la corsia opposta, finendo contro il Ducato. Le operazioni di soccorso sono state lunghe e laboriose, anche per estrarre il corpo del 71enne dal furgone. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per rimuovere i mezzi e ripulire la strada dai rottami. La circolazione sulla statale è rimasta a lungo bloccata con personale dell'ANAS a regolare il traffico. Chi era diretto in Campania è stato dirottato verso Sepino per poi riprendere la 87. Violenza sessuale di gruppo e lesioni su una minorenne sono le accuse di cui dovranno rispondere due 19 anni incensurati della provincia di Campobasso ora agli arresti domiciliari. Sentiamo Marta Martino. Dovranno rispondere di violenza sessuale di gruppo su una minore di lesioni, due 19 anni incensurati, uno studente e l'altro disoccupato della provincia di Campobasso, che si trovano ora ai domiciliari su disposizione del GIP Teresina Pepe. La misura cautelare è stata eseguita dalla mobile di Campobasso, che stamattina ha tenuto una conferenza stampa per illustrare i dettagli della vicenda. I fatti risalirebbero la notte di San Lorenzo, quando una diciassettenne di un centro della provincia, insieme ad un'amica più grande e ad altri ragazzi, decide di recarsi in auto in un altro paese per una sagra. Nella comitiva anche i due 19 anni in questione, uno lontano cugino della minore. Una serata spensierata come tante a divertirsi, che poi all'improvviso si trasforma in un incubo per la diciassettenne. Finita la sagra, i due 19 anni si offrono di riaccompagnarla loro in auto. La giovane esita anche perché l'amica insiste a volerle dare lei il passaggio a casa. Forse hanno tutti anche bevuto un po' troppo. Alla fine la ragazza sale sull'auto del cugino e dell'amico, che prima iniziano a farle delle avance piuttosto esplicite, poi passano ai fatti, parcheggiando in una zona isolata e vincendo le resistenze della ragazza, abusano di lei, causandole anche delle lesioni. La diciassettenne, una volta a casa, non ha il coraggio di raccontare quello che è successo se non il giorno dopo all'amica, che poi ne mette a conoscenza alla madre, che si e che in questura e denuncia la violenza. La ragazza trova il coraggio di raccontare tutto ai poliziotti della mobile solo in un secondo momento, ma fornisce molti particolari così dettagliati e precisi che il sostituto procuratore venditti non ha dubbi sul da farsi. Vengono effettuate perquisizioni a casa dei due giovani indagati e viene prelevato materiale biologico da sottoporre ad accertamenti. Intanto i medici che visitano la diciassettenne confermano la violenza subita. I due si difendono, dicono che la minore fosse consenziente, ma le lesioni riportate dalla giovane indicherebbero tutt'altro. Ad inchiodarli ci sarebbe anche una testimonianza raccolta dai poliziotti. Un amico dei 19 anni avrebbe riferito che Costoro, parlando della vicenda, avrebbero confidato di aver fatto una fesseria. Il GIP Pepe ha disposto gli arresti domiciliari in attesa di conoscere i risultati delle analisi sui campioni sequestrati. Adesso un'altra storia di disagio e di sofferenza. Protagonista e vittima, una ragazza di 17 anni costretta a prostituirsi, è scappata e si è rivolta poi alla polizia di Termoli, i particolari nel nostro servizio. Lei è una ragazza dell'Est, giovane, bella, 17 anni. Questa notte si è presentata in lacrime al commissariato di Termoli, era appena scappata da un cliente, a quanto pare ubriaco e che in un raptus di violenza l'ha schiaffeggiata. Una volta al sicuro e circondata da uomini in divisa ha raccontato tutto. Di essere stata costretta a prostituirsi dei clienti che incontrava ogni notte e dei luoghi in cui si consumavano i rapporti sessuali. Arrivata in Italia da pochi giorni con tante speranze e con la prospettiva di una vita migliore è andata subito a cercare una persona che conosceva Termoli. Ma il sogno di riscatto presto è diventato incubo e l'uomo che doveva aiutarla a trovare un lavoro si è trasformato nel suo sfruttatore, costringendola a vendere il corpo a sconosciuti. Un racconto terribile affidato a quell'italiano ancora incerto di una ragazza ancora bambina e che ha svelato un giro di prostituzione su cui la polizia ora sta indagando e che potrebbe avere risvolti clamorosi con la richiesta di misure cautelari. Gli agenti stanno rimettendo insieme i tasselli cercando di capire se dietro tutto ci sia un'organizzazione, se ci sono altre minorenni coinvolte. Intanto il caso è passato nelle mani della procura dei minori di Campobasso e la giovanissima straniera, senza un posto in cui stare e ormai derubata dei suoi sogni, sarà affidata a una casa di accoglienza. Cambiamo argomento e parliamo adesso di piano sanitario regionale perché la commissione a Palazzo Moffa è tornata a riunirsi. Allora sentiamo gli ultimi aggiornamenti da Giovanni Minicozzi. Continua a ritmo serrato il confronto in quarta commissione regionale per tentare di definire in tempi brevi il nuovo piano sanitario. Dopo il grido di allarme lanciato dal senatore Ulisse Di Giacomo sull'emergenza cardiovascolare, la discussione è ripartita proprio dalla riorganizzazione di questo delicato settore e non sono mancate proposte concrete. È stata una commissione molto collaborativa. Ho trovato i commissari, sia i rappresentanti della maggioranza che quelli dell'opposizione, molto determinati e consapevoli della responsabilità che in questo momento tutti quanti dobbiamo affrontare. È stato posto, come sempre, al centro del dibattito il paziente e su questo argomento sono state condivise alcune proposte fatte dai commissari. Personalmente ho proposto, relativamente all'emergenza cardiologica, che era uno dei punti da trattare in commissione, ho proposto un centro unico di riferimento con dei centri satellite. Centro unico di riferimento ubicato presso la Fondazione Cattolica a gestione ASREM con attivazione di un pronto soccorso cardiologico e due sedi periferiche in Isernia e da Termoli che serviranno da supporto per far sì che il paziente infartuato con altri problemi cardiaci possano avere delle risposte immediate nelle 24 ore, lasciando chiaramente all'ospedale Cardarelli la cardiologia clinica, la cardiologia di base, tutto quello che già attualmente il Cardarelli fa e lo fa anche molto bene. Quali sono i tempi? Noi pensiamo che nella prima decade di settembre di aver ultimato il lavoro, iniziato già da qualche mese con le numerose audizioni che abbiamo avuto e quindi nella prima decade avremo modo di incontrare il commissario Basso e avere un confronto alla pari sapendo il lavoro che noi abbiamo fatto e avendo la possibilità di conoscere quello che lui sta facendo. Intanto però diversi cittadini protestano per le liste di attesa eccessivamente lunghe. Ma certamente protestano perché la riorganizzazione al momento è soltanto teorica. Bisogna mettere in pratica quello che noi stiamo facendo. Siamo molto determinati perché la gente da noi, dai politici, si aspetta delle risposte concrete. È finito il tempo dei tatticismi politici, la gente vuole persone serie, persone affidabili, persone che hanno le idee chiare e sanno che cosa devono fare. Piace sempre di più l'ipotesi di riunificare l'Abruzzo e il Molise ma l'obiettivo rimane quello della macro-regione adriatica tentando di agganciare anche con le Marche. Se ne è parlato ad Agnone su iniziativa della federazione Almosava. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Potrà mai tornare il Molise insieme all'Abruzzo? E la macro-regione Marche-Abruzzo-Molise è davvero un'ipotesi praticabile? L'associazione Almosava di Agnone ne è convinta e il suo presidente Enzo Carmine delle Quadri ha organizzato convegno per approfondire i temi sul tappeto soprattutto alla luce dell'emergenza istituzionale provocata dalla soppressione di una delle due province molisane quasi un preliminare alla scomparsa dello stesso Molise. Almosava significa Alto Molise-Sangro-Vastese ed una vasta area che per secoli è sempre stata unita infatti secoli fa era l'Alto Sagno e poi è sempre stata la diocese di Trivento e quindi noi pensiamo di ricostruire questa aggregazione all'interno della ricongiunzione poi tra Abruzzo e Molise. Il Parlamento italiano che il 7 agosto ha approvato una legge di cui noi dobbiamo prendere atto non mi risulta che i territori di fronte a una legge nazionale possano decidere di fare scelte differenti. Questa legge stabilisce che in Molise noi dobbiamo adoperarci per costituire un'unica provincia per evitare che il territorio di Sernia ma non solo venga in qualche modo messo ai margini anche delle decisioni istituzionali io ho messo sul tavolo una proposta di immaginare 17 unioni dei comuni anche perché ci sono delle scadenze obbligatorie entro il 31 dicembre di quest'anno che i comuni non potranno più gestire da solo le funzioni parlo di tutti i comuni ma le devono gestire in modo associato quindi comunque dobbiamo promuovere le unioni dei comuni con 6 unioni dei comuni nella provincia di Sernia a cui poter delegare funzioni, poteri, prerogative e anche personale significa che l'unica provincia che rimane non allontana le realtà locali da Campobasso ma per assurdo può capovolgersi in una opportunità. A Dagnone anche a Giuseppe Tagliente consigliere regionale del PDL della regione Abruzzo insomma un gran dibattito, un gran parlare di questa riunificazione possibile, ipotizzabile, scadenata insomma anche dalla soppressione della provincia di Sernia in regione, il Molise con una sola provincia non può esistere ma l'Abruzzo ci vuole? Beh, direi di sì direi di sì così vicine, da sempre compatibili l'una con l'altra con un patrimonio culturale tradizionale in comune, credo che sia il presupposto, la premessa che renda possibile una riunificazione che si rende necessaria non soltanto per quello che ha detto lei giustamente riguardo alla ormai soppressione delle province e di una delle province del Molise ma per dare più forza a tutte e due le regioni insieme si può contare certamente di più È tutto pronto per aprire al traffico il collegamento su Ingotti alle porte di Campobasso i due viadotti sono stati realizzati e adesso ultimati e fra il 3 e il 5 settembre è prevista l'inaugurazione Un'opera imponente per la quale sono stati utilizzati materiali e tecniche ingegneristiche innovative il viadotto sulla Fondovalle Ingotti alle porte di Campobasso è finalmente pronto per essere aperto l'inaugurazione ci sarà fra il 3 e il 5 settembre fanno sapere le ditte 3L, Pallante, PQ, Edilizia e Strade qui è stato affidato il compito di ricostruire l'opera sono riuscite a completare i lavori entro, anzi prima dei tempi stabiliti cioè il 5 settembre ed erano preparate a inaugurare anche all'inizio della prossima settimana le ditte sono riuscite a superare i problemi che si sono presentati mantenendo invariati il tempo di consegna e i costi e c'è da contare il periodo di stop in inverno che è stato lungo a causa anche delle eccezionali nevicate senza considerare gli intoppi burocratici e altro ancora che comunque sono la prassi in questi tipi di lavori si è provveduto a far brillare i tronconi del precedente viadotto a mettere in sicurezza l'area e a ricostruire tutto dopo accurati studi geomorfologici il vecchio viadotto nel 1998 fu interessato da una frana fu chiuso e smantellato e gli automobilisti costretti dunque a utilizzare una bretella che è rimasta provvisoria per più di 10 anni e lo sarà ormai fino ai primi giorni di settembre una bretella teatro anche di incidenti mortali il nuovo tratto stradale è costituito da una piattaforma tre corsie di cui una di arrampicamento ciascuna larga 3,75 metri e due banchine laterali da un metro e mezzo le opere principali sono non un solo viadotto bensì due della lunghezza rispettivamente di 230 e 195 metri a quattro campate con impalcato continuo e struttura mista in acciaio e calcestruzzo l'importo dell'intervento ammonta complessivamente a circa 15 milioni di euro malcontento tra i dipendenti del comune di Isernia per il paventato taglio delle indennità e degli incentivi si tratta di una decurtazione di circa il 50% e gli impiegati di Palazzo San Francesco sono in rivolta al servizio c'è malcontento fra molti dipendenti del comune di Isernia a causa della paventata decurtazione di oltre il 50% delle indennità loro spettanti ai sensi del contratto decentrato dagli enti locali i malumori si sono acquiti dopo che lo scorso 2 agosto la riunione fra amministrazione municipale e sindacati è saltata quasi tutti i dipendenti decurtati intanto in difesa dei propri diritti si sono auto-organizzati diffidando con una nota il comune anche perché i tagli penalizzano solo alcune categorie e non toccherebbero quelle figure che si dividono quasi tutta la torta a discapito dei loro colleghi infatti nel verbale della riunione di contrattazione che ha preceduto quella del 2 agosto si legge che più di un sindacato ha proposto l'abolizione delle cosiddette posizioni organizzative assegnate a pochi privilegiati e che assorbono proprio quel 50% di indennità che si indende sottrarre agli altri a una decina di dipendenti quindi verrebbe ripartita un'indenità ingente che supera i 50.000 euro l'anno una cifra del tutto sproporzionata poiché equivale all'importo complessivo di tutte le altre indennità messe insieme cioè quelle molto esigue desidate al rimanente personale formato da un centinaio di dipendenti i quali per la maggior parte percepiscono solo poche decine di euro ciascuno una situazione del genere si era creata al comune anche un paio d'anni fa l'amministrazione ridusse arbitrariamente le somme spettanti a personale ma poi fra rimborsi ai dipendenti e spese legali fu costretta dal giudice competente a sborsare un importo triplo rispetto a quello decurtato Si è tenuto a Palazzo Onorante a Campomarino un convegno sul ritrovamento della necropoli millenaria di Contrada Favorita Manuela Iorio Quasi un anno fa la straordinaria scoperta una necropoli del V secolo a.C. saltata fuori durante i lavori per realizzare un distributore di benzina in Contrada Favorita sulla provinciale 40 un rinvenimento importantissimo per Campomarino e allo stesso tempo prezioso i primi a scoprire le tombe sono stati gli operai ma poi è arrivata la sovrintendenza per i beni archeologici del Molise che ha avviato la campagna di scavi riportando alla luce gli antichissimi resti A Campomarino e alla necropoli abbiamo trovato 22 sepolture che vanno da un periodo cronologico che copre dall'età arcaica fino all'età romana i corredi più importanti sono quelli del IV-III secolo a.C. appartengono a cavalieri quindi con cinturoni di bronzo punte di lancia, coltelli, spiedi e le loro donne che invece hanno fibule, anelli digitali, collane eccetera in particolare il ritrovamento di una donna molto interessante di una sepoltura a biso ma una donna con il proprio bambino probabilmente sono morti nella stessa circostanza forse di parto o di poco successivo al parto E a Campomarino a Palazzo Norante si è tenuto un convegno organizzato dall'assessore al turismo Giuseppino Occhio Nero che ha annunciato l'intenzione di costruire una rete turistica che parta proprio dalla cultura da un percorso storico archeologico per stimolare un nuovo sviluppo economico per Campomarino Durante l'incontro sono stati presentati i risultati dello scavo illustrando le caratteristiche dei reperti che sono stati tutti catalogati dalla sovrintendenza una scoperta importante per Campomarino un prezioso tassello per ricostruire la storia antica del Basso Molise e rituali funerari nella terra che era chiamata Frentania In tutte le sepolture di epoca classica e cioè quelle che si colocano tra il V e il IV secolo a.C. anche nel III o qualcuna è documentato l'uso del vino Nel rituale funerario il vino è bevanda inebriante è bevanda che collega mondi diversi e quindi collega l'essere sani con la follia per certi aspetti collega l'essere vivi con l'essere morti è un tramite per dialogare tra chi è rimasto e chi è andato via ci sono crateri, ci sono coppe per bere il vino anche frantumate ritualmente alcune volte ci sono anfore Frammenti d'Antico a Bagnoli del Trigno si conferma come uno degli eventi dell'estate oltre 15.000 persone con un ulteriore incremento rispetto al pubblico registrato nelle scorse edizioni hanno preso parte alla manifestazione ma sentiamo Giuseppe Carriera Ormai è una tradizione che dimostra anno dopo anno come con l'impegno con la volontà ferrea di credere nelle proprie radici si possono battere sia il tempo che la crisi per questo la diciottesima edizione di Frammenti d'Antico e per Bagnoli del Trigno e per tutta l'area circostante una iniezione di entusiasmo sull'onda della clamorosa partecipazione di pubblico stime non ufficiali lo scorso anno parlavano di 15.000 presenze secondo gli organizzatori l'edizione appena conclusa ha fatto registrare un pubblico ancora più numeroso che ha potuto però godere meglio l'evento con una disposizione logistica ancora più allargata e distribuita sul territorio fascino e atmosfera d'altri tempi già da tramonto con il corteo storico nei panni del Duca e della Duchessa il tenebroso Alex Belli e la splendida Maura Manotti io sono felicissimo perché venendo qui ho visto la rocca di Bagnoli del Trigno e penso che questi paesi siano la forza del nostro paese c'è sempre un po' di emozione poi soprattutto questa volta che ho l'incarico di rappresentare la Duchessa con questo vestito meraviglioso sono veramente molto emozionata l'elezione dei sindaci secondo il metodo della fava del fagiolo poi il corteo che si sposta nella piazza di sotto e la festa di Santa Caterina che anima tutto il borgo ovunque sapori, spettacolo, storia e leggenda ma soprattutto tanta gente arrivata a Bagnoli da tutto il Molise e anche oltre non conoscevo il Molise conoscevo l'Abruzzo e devo dire che questi paesi arroccati sono proprio particolari filata, bellissima sia dei siti che gli attori bella festa nel senso fatta bene come criterio come organizzazione sia dal corteo come organizzata dai vari punti dopo mezzanotte il volo della fata che quest'anno ha lanciato un messaggio ispirato alla realtà ma anche con una prospettiva positiva poi la serenata il duca che rivendica il diritto della prima notte ma viene ucciso e il castello dato alle fiamme ovviamente è l'incendio artistico che entusiasma il pubblico in questi giorni la compagnia di cultura popolare la perla del Molise compie 35 anni di attività il tempo è passato ma i frammenti della storia di un tempo e di quella vissuta insieme in questi anni rimangono una testimonianza viva e proiettata verso il futuro la diciottesima edizione di frammenti siamo a 17 con i mesi dell'anno tante pubblicazioni all'attivo ecco cultura cultura popolare sì ma cultura con la C in maiuscola sarà anche crisi ma non finirà il mondo andiamo avanti e andiamo avanti con frammenti d'antico frammenti che in questa sera quindi ha dato un messaggio particolare un messaggio lieto un messaggio di speranza di amore una serata bella da vivere e quindi voglia di vivere appunto voglia di andare avanti e tutto termina qui anche questo appuntamento con sette giorni di cronaca grazie per averci seguito e arrivederci grazie per averci seguito